Gli Stati Uniti La dichiarazione di guerra agli Stati Uniti da parte dell'Italia e della Germania fu l'errore più grande. La tentazione fu di seguire il Giappone nell'attacco a sorpresa di Pearl Harbor, ma in realtà stavano risvegliando la più grande democrazia del pianeta e l'azionale dormiente delle democrazie. Feceva il regalo più importante e più strategico a Winston Churchill, alla Gran Bretagna, che fino a quel momento stava combattendo da sola. Aggredendo gli Stati Uniti, le potenze dell'asse si condannarono alla sconfitta.